Ehi, ciao bambini! Eccoci di nuovo qua! Oggi parleremo di... Dinosauri! E vai! So che i dinosauri piacciono a tantissimi di voi! In effetti sono dei bei giganti! Ma scopriamo qualcosa di più! I dinosauri comparirono nell'era mesozoica, che va da 250 fino a 65 milioni di anni fa. Questa era è chiamata anche era dei rettili, in quanto proprio loro ebbero uno sviluppo enorme e si differenziarono moltissimo. Ed anche i dinosauri sono rettili. Letteralmente la parola dinosauro significa lucertola mostruosa. In effetti, pensate all'aspetto spaventoso che avevano. A me sarebbero tremate le gambe a trovarmene uno di fronte. No! Esistevano molte specie di dinosauri. Alcuni dominavano la Terra, come il Velociraptor, il T-Rex e lo Stegosauro. Altri, invece, dominavano il mare, come il Plesiosauro e il Mosasauro. Altri ancora dominavano l'aria, come l'Opterodattilo. I dinosauri si distinguevano a seconda di che cosa mangiavano. C'erano i carnivori, che si cibavano appunto di carne, gli erbivori, che mangiavano foglie, piante e cortecce di albero, e gli onnivori, che mangiavano sia carne che piante. I carnivori erano i più temibili, erano agili e veloci e avevano denti aguzzi. Quasi tutti i carnivori terrestri erano bipedi, ovvero stavano in posizione retta, camminando sulle zampe posteriori. Vediamone alcuni. Allosauro, tirannosauro, spinosauro, oviraptor. Anche gli erbivori avevano denti affilati, ma non per uccidere e mangiare le proprie prede, ma per tagliare e strappare le foglie e le cortecce degli alberi. Tra gli erbivori c'era il brontosauro, lo stevosauro, l'iguano d'onte e il triceratopo. I dinosauri volanti pterosauri erano per lo più carnivori, ma è molto probabile che ne siano esistiti anche di erbivori e univori. Il più famoso è lo pterodattilo, ma il più interessante è il microraptor, perché è l'antenato degli uccelli. Per quanto riguarda dinosauri marini, è difficile specificare se si trattava di rettili giganti acquatici o dinosauri acquatici, poiché durante un lungo periodo entrambi i gruppi di rettili hanno ecocistito. Comunque a noi ci sono pervenute maggiori informazioni sui giganti marini, piuttosto che sui dinosauri più piccoli. Il più grande e spietato era il mosasauro. Ma di specie di dinosauri ce ne sono veramente tantissime. Voi direte, come hanno fatto a sapere come erano fatti? Come sapete, i paleontologi sono coloro che studiano piante e animali antichi. Lo fanno attraverso i fossili, che rivelano un sacco di cose sull'animale o la pianta a cui appartengono. Ma sapete come si formano i fossili? I resti di un essere vivente, animale o vegetale, rimangono sepolti sotto la sabbia o il fango. È in questo modo che si conservano per tanto tempo, poiché durante anni, decenni e secoli, gli strati di sabbia, fango o terra diventano rocce. Poi l'acqua sotto le rocce bagna i resti del nostro animale o vegetale, impregnandoli di sali minerali. Questi impediscono all'aspetto originale dell'animale e del vegetale di rovinarsi o subire variazioni. Ed ecco che dopo milioni di anni si forma il fossile. Non è poi così facile quindi trovare dei fossili, ma nel corso degli anni i nostri paleontologi ne hanno trovati tantissimi e così hanno potuto ricostruire la storia. Che bella lezione, bambini! Per oggi ci fermiamo qui. Per me è stato sicuramente un piacere. Ciao bambini e buon lavoro! Ciao bambini e buon lavoro! Grazie.